GF VIP 7, Nikita Pelizzon commenta con Luca Onestini l'ingresso Matteo Diamante, mi fa piacere che sia qua perché non è passato di certo inosservato l'ingresso di Matteo Diamante nella casa del grande fratello VIP nel corso della puntata andata in onda ieri sera. Ancora prima di varcare la porta rossa della casa di Cinecittà, l'ex naufrago si è scontrato con Luca Onestini. L'ex tronista di Uomini e Donne e l'ex fidanzato di Nikita Pelizzon non se le sono di certo mandate a dire, fra insulti e battutine ironiche. Dopo la diretta, Luca Onestini ha voluto mettere da parte il gelo della ultima settimana e si è ritrovato a chiacchierare in veranda con la vippona. L'uomo non è molto convinto della buona fede di Diamante. Secondo Luca è entrato nella casa per il gioco, non per lei. Anche Nikita Pelizzon ha commentato l'ingresso del suo ex. Non è caratterul meu de fier, c'è bai ploaie vand nici un curcubeu, da c'è c'è toate astea-s doar in capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi c'è t'ai intârziat deja. Aruncă spate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii-s poți imagina că lumea e a ta. Și-n plus, poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus pot eu să sar. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă ruc tot, m-a-sus.